Si parte Sella Ronda 22 giugno 2022 nel senso che lo fa la maratona quindi Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena. Quarto giorno sulle Dolomiti. Come già detto si va a fare il Sella Ronda da Curvara in senso orario e si inizia con la salita al passo Campolongo. Sella Ronda. Meteo incerto. Sono sempre sulla mia Bianchi Oltre XR4. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricate. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, contividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Fanno rami spettacolari. Fanno rami spettacolari. Fanno rami spettacolari. E poi... ... 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 Grazie a tutti 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 Agh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti